Dottor Luca Romano, direttore Local Area Network Padova. Parliamo di propensione alla generosità. Voi avete fatto uno studio per capire quanto siano generosi i concittadini padovani. Sì, lo studio è stato commissionato da LULS 16 e serviva a capire il sentimento di propensione alle donazioni da parte di una popolazione, quella padovana, che da questo punto di vista ha una grandissima tradizione soprattutto di sostegno a iniziative di carattere sociale, di contrasto alla povertà e relative alla cura. È emerso, la cosa non poteva non farci piacere, anche un po' di sorpresa, che mentre la percentuale di italiani che donano è intorno al 30%, questa percentuale si alza intorno al 37% nel nord-est del paese e tocca in provincia di Padova il 42%. Indicativamente si può parlare anche di cifre? È emersa una cifra dal vostro studio? È emersa una cifra media di donazioni che è intorno ai 30 euro e poi questa cifra si alza in relazione a determinati territori, la città e l'altra padovana sono un po' più generosi e in relazione al reddito. Però un'altra sorpresa molto interessante della ricerca è che la fascia generazionale più propensa alle donazioni con obiettivi la cura e il sociale è quella dei giovani.